buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con le nostre notizioni naturalmente magliettina come sempre di sportando che usa giusto per fare i video e basta perché dobbiamo parlare del campionato mondiale femminile perché le nostre ragazze hanno fatto molto bene ma adesso andremo a parlarne raffreddato vabbè è il periodo anche perché dormo poco perché c'è sempre un sacco di idee sul canale mio anche se ho sempre 280 follower va bene chi si accontenta gode e sia perché inizierò appunto questa nuova avventura questa nuova rubrica su inter live che riguarderà appunto gli youtuber e instagramers cioè youtubers maschi e femmine instagramers maschi e femmine dove andrò appunto intervistarle eccetera e ho già qualche candidato che fortunatamente è stato gentile da dire sì sì io ci sono volentieri meno male ho chiesto qualche persona qualcuno mi ha detto di sì anche sto aspettando magari quando cominceranno a vedere a vedere gli articoli che escono diranno vabbè dai faccio anch'io staremo a vedere però bando alle ciance andiamo a parlare del gruppo dell'italia il gruppo c che come ben sapete aveva giamaica australia brasile e appunto italia si sono giocate le ultime due partite che erano appunto italia brasile e australia giamaica e quindi andiamo subito a parlare di australia giamaica che vabbè è stato veramente la la serata della care serata della care che inizia a parte che la giamaica all'inizio ha provato un attimino a rendersi pericolosa poi è arrivato il primo cross in area e la care che nonostante non sia una vatussa perché comunque non è altissima questa ragazza un'elevazione che devo dire mica da ridere è andata praticamente in cielo perché se vedete il gol la giocatrice della della giamaica è più alta di lei per lei è riuscita a saltando ad anticiparlo a fare il colpo di testa a palombella per intenderci il classico colpo di testa che è terminato il proprio bello preciso come come un fuso come direbbe avvatantuono dell'angolino alto il portiere l'estremo difensore nazionale giamaicana ci ha provato a lanciarsi a prenderlo ma non l'ha presa e va bene arriva il primo gol subito dopo dopo un po altro cross dalla tre quarti per di più e la giocatrice il difensore femminile della nazionale giamaicana la marco io la care si è spostata è arrivato il cross la care bella tranquilla in area di testa da sola 6 7 metri dalla porta schiaccia gol 2 a 0 vale nella ripresa poi ci sono state no poi è arrivato anche il terzo l'on si si stasso un po il terzo gol è stato ancora più di ma prima del terzo gol c'è il gol della giamaica gol della giamaica della su soulan soulan e bel gol perché praticamente si è lanciata nella difesa alta dell'australia che ama giocare con la difesa alta eccetera però poi cosa succede che ti prendo di infilata fatti la solano ben lanciata dalla show se inserita bene della difesa centrale alta dell'australia è partita dalla tre quarti della del centrocampo australiano entrata in area ha superato il l'estremo difensore femminile della della nazionale poi ha incrociato molto bene eludendo le due difendenti che erano tornate per recuperare la palla quindi nonostante avesse il difensore davanti l'ha incrociata la palla la presa incontro e ha messa dell'angolino un gran bel gol della solano e poi dopo devo dire che la giamaica ha avuto quei dieci minuti scusate un attimo scusate raffreddore malefico ha avuto quei dieci minuti in cui la show ha avuto un paio di occasioni che le ha tirate non bene e poi è arrivato il terzo gol che ha un gollonzo gollonzo classico che prende la giamaica cross palla che passa finisce sulle gambe del difensore femminile della nazionale giamaicana rimbalza e fa finire sui piedi della care che da tre metri cinque metri dalla porta non può sbagliare e infatti ha detto non puoi lasciare libera la care perché se no ti punisce sempre 3 a 1 quindi per l'australia nel frattempo il brasile aveva segnato quindi l'australia automaticamente col gol del brasile che quindi si trovavano tutte tra le squadre italia australia e brasile a sei punti il brasile sarebbe stato secondo e l'australia terza cosa è successo ci ha pensato l'estremo difensore femminile della nazionale della giamaica perché su un retropassaggio la care si è avvicinata ha fatto per rinviare la palla l'ha ciccata completamente quindi la palla si è allontanata di pochi centimetri la care veloce come un falco l'ha messa dentro quindi 4 a 1 per l'australia australia automaticamente al secondo posto quindi australia batte giamaica 4 a 1 4 gol della care complimenti e quindi andiamo a vedere adesso cosa ha fatto l'italia ve l'ho già accennato lo saprete già comunque l'italia che schierava giuliani guagni gama linari bartolini bartolo bartolini bartolo galli giuliano cernoia girelli giacinti e buona ansea italia che francamente sì un po come è successo anche con l'australia ci sono stati dei momenti in cui il brasile ci ha messo tra virgolette sotto tra virgolette perché comunque di occasioni clamorose di mega parate galattiche della nostra giuliani non è che ce ne siano state tantissime anzi cross azioni eccetera tiri però nulla di che solito gol ad un lato a noi perché per fuorigioco che c'era nulla da eccepire però cominciano essere un po troppi gol che ci stanno annullando però c'è fuori gioco fuori gioco però per il resto le nostre ragazze non lottato combattuto si sono date da fare eccetera poi è arrivato il fattaccio brutto perché la giocatrice del brasile si è inserita in aria la linari si è messa davanti si è frapposta semplicemente fra lei e la palla quella gli è andata ad osso l'arbitro ha deciso per il rigore che la marta non ha sbagliato spiazzando nettamente la giuliani poi va bene italia ci ha provato ancora ha avuto qualche occasione sono entrate la bergamaschi e la mauro e la bergamaschi se non sbaglio è arrivata in scivolata su un cross basso ma è riuscita solo a toccarla appena appena la palla perché se la prendeva bene avremmo pareggiato ma comunque alla fine della fiera una sconfitta che ci stava che non ci cambia assolutamente la vita anzi è stata una sconfitta positiva che tra virgolette ci fa tornare al nostro livello che non siamo i futuri però ce la possiamo giocare non sono le future campionesse del mondo però se la possono giocare alla pari con tutte tranquillamente perché una vittoria col brasile magari avrebbe creato maggiori aspettative per la sfida teoricamente con la cina viceversa così sappiamo di avere un'ottima squadra femminile che può fare molto bene ma non pretendiamo che vadano a vincere il mondiale diciamo un po come è successo invece in argentina con la nazionale italiana nel 78 che quando batterono la nazionale ospitante che poi avrebbe vinto al mondiale tutti si sarebbero aspettati di rivedere una finale italia argentina che poi purtroppo ahimè non è accaduto comunque che dire tutte brave tutte brave io adoro adoro tra virgolette cioè mi piacciono particolarmente la giuliani e la buona sia a giuliani perché portiera come il sottoscritto e la buona sia perché già il nome dice tutto un programma poi mi stanno particolarmente simpatiche la giuliano perché mi ricorda rita pavone quando era giovane quando era giovane la cernoia perché sa fare i cross che neanche che dovrebbe prendere andare da piano gentile dire che andrea ti insegno come fare i cross perché veramente fa dei crossetti da libidine la giacinti perché il nome uno dice giacinti una ragazza tosta da morire e la gamma perché comunque è proprio la classica di classico difensore di classe ecco non quella cattiva che entra perché quella cattiva è la linari la linari è un armadio è un armadio non passi non passi la gamma invece è con tutto il rispetto la scirea della situazione la picchi della situazione si mette lì precisa tranquilla non picchia nessuno ma è poi vi direte la sfema è un esempio per farvi capire però va bene magari ho esagerato però a me ricorda quel difensore classico che interviene ma mai con la cattiveria di farti male eccetera interviene perché e poi riparte con piglio deciso eccetera infatti ogni tanto va anche in attacco poi va bene non sto a dire tutte le altre perché sennò facciamo notte fatemi sapere voi cosa ne pensate l'italia è prima nel girone affronterà probabilmente la cina una nigeria cino nigeria vedremo teoricamente la cina e speriamo almeno di arrivare in semifinale io mi auguro di arrivare in semifinale poi tutto quello che viene in più è di guadagnato però c'è già arrivare in semifinale sarebbe tanta 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 roba attenzione alle cinesi io le ho viste dove mi sembrano una squadra che può mettere in difficoltà questa Italia però le vie del signore sono infinite detto questo vi saluto vi ringrazio poi mi appresterò a fare le partite dell'altro gruppo c'è il gruppo di inghilterra giappone argentina e scozia ma ho pensato di fare prima questo video qui riguardante appunto le nostre ragazze proprio perché sapevo che vi sarei dilungato un attimino di più ciao 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 ciao